Le mafie si combattono uniti e senza paura, non è una frase fatta ma l'unico modo per sconfiggerle. Il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ha aperto così la serata a lui dedicata della rassegna culturale Praia Mare con Piazza Italia ha risposto bene, così come le istituzioni. A moderare la serata il giornalista Egidio Lorito, ideatore della Kermess che da anni porta nella città dell'isola Dino, illustri rappresentanti delle istituzioni e del panorama culturale nazionale. Non si è parlato solo dell'ultimo libro di Roberti, il contrario della paura, ma è stato un vero e proprio dibattito sulla legalità. Ad aprire la serata il sindaco di Praia Mare Antonio praticò il quale ha annunciato che per fine settembre la sede per il convegno di magistratura democratica sarà proprio la città dell'isola Dino. Con le sue domande Lorito ha toccato tutti gli argomenti, ha ringraziato il neosindaco di Scalea Gennaro Licursi per la sua partecipazione vista la delicata storia di Scalea e la ferita ancora fresca lasciata nel luglio 2013 dall'operazione Plinius e non ha dimenticato la recente operazione Frontiera con cui è stata sgominata la cosca muto. Alla serata hanno partecipato molti rappresentanti delle forze dell'ordine e l'associazione libera dalle mafie. Roberti è stato chiaro, ci vuole una forte presa di coscienza da parte della società civile, bisogna avere fiducia nelle istituzioni e ricordare sempre che siamo in uno stato di diritto, ossia che nessun potere è al di sopra della legge. Parole che dette così suonano come qualcosa di già sentito ma che Roberti ha invece voluto ribadire proprio con i fatti e con il lavoro svolto in questi anni presso la Direzione Nazionale Antimafia. Insomma, senza una discesa in campo della gente le mafie hanno campo facile, senza un abbattimento delle disuguaglianze non si riuscirà a togliere manovalanza alle cosche, ma al di sopra di questo c'è quella zona grigia dove si incontrano criminalità, imprenditori senza scrupoli e politica. E di esempi del genere la storia d'Italia ne è piena. Ciò però non deve indebolire la parte sana della società che quotidianamente lavora per il bene comune. Si è conclusa così con un messaggio positivo una serata all'insegna della legalità e della cultura seguita fino all'ultima battuta.